E' un'altra cosa che mi sembrava saltellare insieme a loro e sembrava di morire. Molto, come si può dire, particolare ma ispirante, ispirante. E' uno spettacolo bellissimo, loro sono molto bravi, una bella ricerca di movimento, molto semplice ma ipnotico. Non ho bevuto il palinkovets perché il pubblico non è stato molto collaborativo. Sono venuta perché la mia amica ha insistito molto. Io non li conoscevo questi ragazzi però mi sono piaciuti davvero un sacco. Avrei voluto portare la mia insegnante di danza. Grazie.